Stasera tornerà in diretta su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, in attesa di scoprire chi verrà eliminato. Spazio per una indiscrezione croccante sulla penale che dovrà pagare Jeremias Rodriguez, per avere abbandonato il programma di sua volontà. Secondo i colleghi di Coming Soon, l'ex concorrente dovrà sganciare circa 50.000 euro, stando alle indiscrezioni il 33enne, fratello minore di Belen, dovrà pagare circa 50.000 euro oltre a non poter più presenziare in studio, come avviene per tutti gli eliminati. Ecco le sue motivazioni per aver abbandonato l'Isola. Mi sono comportato da persona reale. Qui ho sempre litigato entro i limiti. Io sono Rodriguez e da 15 anni subiamo questi attacchi inutili. Non è una cosa che mi sono cercato. Mi è arrivata di rimbalzo. Sono una persona straumile. Non me la sono mai tirata. Non ho mai voluto comandare. C'è stato un accanimento. Sta passando un'immagine mia che non esiste più. Ho sentito il bisogno di chiarirlo con il pubblico.